Sto per portarvi in un posto speciale, ma per fare questo mi devo fare aiutare da un amico speciale, che è Giuseppe Di Stefano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, ciao a tutti. Posso definirti l'anima di Etna Walk? Beh sì, in parte sì, anche se la vera forza di Etna Walk da sempre sono stati gli altri, anche i collaboratori, comunque tanti altri amici e professionisti che lavorano con me. Ecco, di che cosa si occupa Etna Walk? Per chi non lo sapesse, per chi non conoscesse questa realtà? Allora, noi ci occupiamo di documentare non solo gli aspetti più plateali e vistosi dell'Etna, quindi le varie manifestazioni eruttive, ma anche quello che ruota attorno. Quindi ci piace tanto anche la parte pedemontana, che racchiude comunque tradizioni e sapienza anche. Perché l'Etna è un'entità viva, sostanzialmente, non può essere considerata solo un vulcano, ma qualcosa che è intervenuta nella nostra vita tante volte, ha modificato l'aspetto delle nostre zone. E chissà quante altre influenze ha avuto. Io sono convinta del fatto che ci sia anche un'influenza spirituale. Non so se è vero, ma io ne sono convinta. Non sei la sola? Alcuni aspetti della montagna che stiamo rivedendo adesso, ma che abbiamo rivisto anche dieci anni fa, quindici anni fa, vent'anni fa. Quindi è un aspetto un po' ciclico che ci fa piacere non solo notare e vivere, ma anche documentare. Tu per esempio stamattina, poi entreremo proprio nel vivo del motivo per cui ti ho contattato, ma stamattina per esempio che cosa hai fatto sull'Etna, nei pressi di Milo? Allora, ora sono a Milo, in piazza, mi sono fermato perché sono stato su a fare delle riprese, mi servivano alcune riprese particolari, non posso ancora svelare il motivo di tutto ciò. Però presto si vedranno, presto si vedranno in tv. Da qualche giorno sto raccogliendo delle immagini che ci hanno richiesto, perché molto spesso capita anche questo. Oltre ai media in generale, sia i nazionali che internazionali per quanto riguarda le manifestazioni eruttive dell'Etna, ci sono anche tanti documentaristi, tv, un po' di tutto ci chiedono delle immagini per completare dei documentari o dei reportage specifici sul vulcano. O sui vulcani, perché nel caso di Netflix siete stati contattati, tu Marco Restivo, tanti compagni di viaggio di Etna Walk per fare esattamente cosa? Stiamo parlando di Netflix, avete capito bene? Allora sì, durante il 2021, durante gli infiniti parossismi che abbiamo avuto sull'Etna, c'è stato un periodo che ne abbiamo avuti anche tre in una settimana, quindi in un periodo molto stressante. Siamo stati contattati per quanto riguarda la realizzazione di una puntata di una serie che è disponibile da circa una settimana su Netflix, si chiama Earthstorm. affronta temi diversi dai vulcani, terremoti, tsunami, gli uragani, quindi gli aspetti un po' più catastrofici, tra virgolette, della natura, senza fare sensazionalismo, né comunque banalizzare troppo l'argomento. Ci hanno richiesto delle immagini precise, con delle specifiche tecniche precise, e quindi durante quei parossismi, durante lo stress di quel periodo, durante anche... Stavate già lavorando per i fatti vostri della serie, cioè già c'era tanta mole di lavoro, poi sono arrivati i vestiti di Netflix e vi vorremmo commissionare quattro cosine, che tanto cosine non erano, giusto? È stato un periodo molto particolare perché contemporaneamente avevamo delle richieste da Focus, dalla Warner Bros, la nostra agenzia per cui lavoriamo, che è Associated Press, aveva bisogno anche chiaramente di materiale utile, poi c'erano due documentaristi americani, anche che ci avevano chiesto delle immagini, e a questi si sono aggiunti anche quelli di Netflix. Siamo stati ovviamente felici, però era un periodo in cui i parossismi potevano partire alle due di notte, Che vita avete fatto nel 2021? Raccontaci, che vita avete fatto? Non avete fatto una vita? Non me la ricordo, o perlomeno mi ricordo pezzi, dei pezzi sicuramente, perché comunque rientravamo, avevamo il tempo di scaricare le schede, di ricaricare le batterie, non solo quelle personali, anzi quelle personali quasi mai erano cariche al massimo, e subito c'era una nuova eruzione, quindi bisognava fare delle valutazioni precise per affrontare, cioè per salire su e non beccarti la cenere davanti, la cenere ricaduta, capire come si evolveva comunque il meteo anche nelle prossime due ore, tre ore, quattro ore, per cercare di capire qual era la posizione migliore per accontentare i vari... Committenti, diciamo. Committenti, sì esatto. Senti Giuseppe, ma la tua love story con l'Etna è effettivamente quando è nata? Guarda questa è una domanda d'amore, perché... Perché parliamoci chiaro, questo genere di vita la può fare solo chi è profondamente innamorato, no? Beh sì, ci vuole... Allora, io non nascondo che tante volte, non dico che ho odiato la montagna, però ho odiato alcuni aspetti legati al mio lavoro, che inevitabilmente andavano a cozzare con la montagna, quindi sicuramente la mia prima esperienza, o perlomeno le mie prime esperienze, sono state molto diverse rispetto a come vivo la montagna adesso, perché oggi, a parte filmare e fotografare la montagna, poi ho bisogno di momenti anche miei, dove con la mia compagna e la mia cagnolina andiamo su e magari non facciamo niente, ci buttiamo su un prato e stiamo lì. Io ricordo la mia prima volta sono andato in montagna, su, ero piccolo, 4-5 anni, c'era un'eruzione, mi ricordo il nero e il rosso, e da quel momento mi è rimasta questa immagine. Poi, crescendo, ho avuto la possibilità di avere una bici, di andare da solo prima in bici, poi in motorino, poi in macchina, e la frequentazione è stata non solo sempre più assidua, ma si è indirizzata anche verso la ricerca di alcune cose che mi interessavano di più. Poi, chiaramente, il mio orizzonte si è allargato e sicuramente l'aspetto della fotografia e dei video mi ha anche aiutato a scavare ancora più a fondo. È perché l'Etna non smetti mai di conoscerla, questa è la verità. Io ho parlato di un'entità animata, non soltanto per un senso quasi mitologico, ma anche perché realmente è così, è una presenza che costantemente si muove, agisce, no? E a questo proposito, io ti vorrei dire, tu non sei, chiaramente non è questa la tua materia, però si comincia a parlare del fatto che potrebbe esserci a breve un'eruzione, fatta premessa che le eruzioni non si possono prevedere, ma si può seguire un andamento, si può seguire un andamento, diciamo, dell'Etna e ipotizzare degli sviluppi. Mettiamola così. Sicuramente. Allora, sicuramente io invito sempre a seguire i canali ufficiali dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, loro sono sempre sul pezzo, diciamo, molto, anzi, sempre, settimanalmente c'è un bollettino, che tra l'altro è scritto abbastanza comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Confermo perché lo consulto anche io che non sono esperta e quindi si può leggere. Sì, no, è un ottimo sistema per cercare di capire qual è il trend del vulcano, perché molto spesso ci sono dei segnali che ci danno la possibilità di capire che prima o poi, o comunque in un breve termine, ci potrà essere una nuova evoluzione. Poi esattamente quando e come, magari neanche l'Etna lo sa ancora. Ecco, bravo. E voi vorreste prevedere quello che non sa manco lei. Vergognatevi, non ci dovete provare. È possibile. Giuseppe Di Stefano, è bello poter dire che è una storia tutta siciliana, quella di Etna Walk, che però varca i confini della Sicilia e dell'Italia per portare le proprie immagini e la bellezza di tutto questo nostro meraviglioso patrimonio ovunque. Grazie a Giuseppe Di Stefano e buona fortuna ad Etna Walk, che vada avanti sempre così. Grazie tante, a presto. Grazie a tutti.